La Lazio, già qualificata, viene battuta al mentropoltano di Madrid dall'Atletico 2-0 e deve accontentarsi del secondo posto nel Girule. Passano in vantaggio con Griezmanns, imparabile per Provedel. Sesto minuto, chance per Zaccani e Luis Alberto. Alvaro annullato per fuorigioco, il raddoppio di Ernuso, trentottesimo. Chance per Griezmanns e Lino. Depay scivola al momento del tiro e sciupa un'adiotta occasione. Il 2-0, Spagnolo arriva al cinquantunesimo, firmato dallo scadenato Lino. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!